Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese creato e ideato come idea del cartone animato da Gonagai. Edizione Ashet, anno 2022, uscita numero 8, un robot alto 75 centimetri, completo del centro ricerche fotoniche, bellissimo, una volta appoggiato sulla base e misurato all'altezza qui delle piattaforme sarà 90 centimetri di altezza. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Seguitemi cari ragazzi iscritti e non iscritti e quelli che non sono ancora iscritti non si dimenticano, non si dimentichino se hanno piacere di iscriversi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist del canale, troverete altri modelli spero per voi interessanti. Qui poi andremo a vedere nel dettaglio tutto quello che riceviamo seguitemi perché Michela ancora una volta è riuscito a trovare il modo di farvi lavorare meno, ottenendo ovviamente sempre lo stesso risultato ma facendo passaggi differenti da quelli consigliati qui nelle istruzioni. Io ho cercato anche di semplificarvi proprio il modo di lavorare senza guardare troppo i codici, soprattutto per le persone che hanno meno esperienza. Anche qui attenzione poi vi farò vedere perché molti commettono l'errore di non inserire bene gli spinotti finotti nella scheda, poi vedrete. Anche questo vedrete che sarà molto semplice con il metodo che vi proporrò. Sarà semplice inserire gli spinotti al suo interno. Ricordo anche a tutti voi che se ci fosse tra di voi qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti in privato. Ci tengo a farvi vedere non soltanto le immagini ma anche ciò che c'è scritto per chi ama questa serie televisiva e tutti i personaggi contenuti non può chiamare anche e avere il piacere di leggere quello che c'è scritto. Ovviamente è rivolto a quelli che non hanno fatto la collezione. Abbiamo quasi finito, anzi direi che abbiamo finito. Ecco qua, ecco qua il bozzetto di Koji Kabuto fatto da Gonagai, proprio eseguito da lui. Vedete? Bene, andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione di uscita numero 8. Diamo un nome a tutti i componenti. Qui abbiamo la parte anteriore che è questa, in metallo, e il collo e questa è la parte posteriore. Abbiamo la centralina elettronica, questa, con l'altro supporto qui, che è il contenitore della centralina stessa. La boccola in ABS, quella che poi consentirà, grazie a questa, che è il suo snodo in silicone, di poter fare roteare il collo in sicurezza. In sicurezza intendo che non si stacchi e che abbia un movimento fluido. Questo è il giunto a sfera, che poi sarà inserito nella boccola in silicone e qui andremo ad avvitarlo sopra il collo. Attenzione a non perdere le due fibre ottiche che adesso vi farò vedere. Questi sono i supporti porta fibra ottica in alluminio. Trasmetteranno nel miglior modo possibile da qui, dove ci sarà il LED, che batterà qua, in questa lenza spessa, e trasmetterà la luce, che arriverà alla punta del raggio congelante. Questa è l'altra fibra ottica. Poi abbiamo i due gommini in silicone, questi trasparenti, che serviranno da supporto qui per il movimento del collo. E poi quattro serie di diti. Guardate subito una cosa. Questo è un consiglio che vi do. Non guardate i primi tre numeri, guardate gli ultimi. Quindi abbiamo il 12, il 13, il 14 e infine il numero 15, che sono facilmente identificabili, queste ultime, perché sono cromate. Io ho fatto una cosa del genere con un blister. Può essere un'idea anche per voi. Ho riportato i numeri delle viti che ho appena nominato adesso. Andiamo quindi ad aprire il primo sacchetto, perché all'interno abbiamo quattro serie di viti in due sacchetti, quindi due serie di viti per ogni sacchetto. Non è un problema, è molto semplice, come vi ho appena detto identificarle. Queste cromate sono il numero 15. Andiamo quindi a metterle all'interno del numero 15. Poi abbiamo queste. Anzi, prima finiamo queste qui. Abbiamo queste che sono le numero 14. vedete, se vi organizzate, tutte più semplici. Facendo così non dovete ogni qualvolta girare la prima pagina per andare a vedere il promemoria di quale è la vite da usare, quella corretta. poi abbiamo queste che sono la numero 12. Per capirci le numero 12 sono le più spesse che troverete, quelle più larghe. E infine, ovviamente per esclusione, queste sono le numero 13, quelle che hanno il bordo più grande intorno, come se fosse una rondella. E queste sono le numero 13. Guardate, avete visto? Molto semplice. Allora, io vi dico come procederò nel montaggio, vi farò vedere. Ovviamente voi, ragazzi, guardate sempre le istruzioni. Se riterrete opportuno fare qualcosa di quello che vi consiglia Michele, lo farete. Diversamente fate ovviamente quello che decidete voi, il modello è vostro. Allora, se vi accorgete ovviamente che ci sono delle pause vocali è perché sto trovando, cercando il modo più semplice, senza guardare tutte le istruzioni, per farvi montare il modello. Ovviamente, oltre che nella semplicità, anche correttamente. Perfetto. Andiamo allora a prendere la vite numero 12. Vedete quanto è semplice? Io vado qui e prendo la vite 12 e me la vado ad avvitare qui perché io mi creo i filetti senza nessun tipo di lubrificante perché è plastica. Mi raccomando, adesso come avete visto si è avvitata molto bene perché i filetti li avevo già creati. E mettiamo via la boccola. Prendiamo questa e qui ci dice che ci va la vite numero 14 e vado a vitarmi la vite numero 14. Prendo questo e mi vado a vittare due viti numero 14. ok poi prendo la testa, sfigo la mascherina, rimuovo questo prendo due viti numero 13 e vado a crearmi il filetto anche qua sotto sulla base dove poi si andrà ad appoggiare l'overpilder. Così ci siamo creati tutti i filetti. In realtà andrebbero ancora quattro viti numero 15, quelle cromate, ma non serve crearsi il filetto perché è già esistente. Lo hanno già fatto da loro. Ok? Bene. Adesso guardate bene. Loro ci dicono di unire subito il collo e poi inserire i cavi. Io ve lo sconsiglio invece. Intanto sfilate le antenne perché poi dovremo andare a mettere i coni in alluminio dentro con le fibre ottiche. Ecco qui. Allora guardate. Questa è la parte anteriore. Separate i fili così. Ne abbiamo tre a sinistra e ne abbiamo tre più quello che farà poi il getto diciamo nebulizzato che è identificato con A4. Lo metteremo a destra. Perché? Perché esce dalla parte destra. Quindi guardate. Questo che è il numero e lettera o meglio lettere numero A7 e lo mettiamo così. Prendiamo adesso A6 e lo inseriamo A5 e abbiamo inserito la parte sinistra. Parte sinistra vista da qui eh? Però in realtà qui è la parte sinistra anche vista da dietro. Perfetto. Perché va visto sempre dietro il robot. Come anche le costruzioni delle auto vanno viste sempre destra e sinistra. Va visto sempre il modello da dietro. A questo punto andiamo a mettere A4 nell'altro foro. Vedete come tutto è più semplice? A3 A2 e A1. distendete bene i fili. Ok. A questo punto guardate. Siamo così. 3 da questa parte e 4 fili da questa. Poi prendiamo questo. Prendiamo questo. Prendiamo all'interno questo che è in silicone. Prendiamo la boccola. Anzi un attimo. Non così. Così. fate già ruotare il quadrato. Guardate com'è nel video in questa maniera. È vero che potete anche spostarlo dopo però così sarete già pronti per poterlo avvitare correttamente poi qua che c'è il quadrato nel suo spazio dedicato. Bene. Svitiamo questa vite. La lasciamo attaccata alla calamita del cacciavite. Perfetto. Adesso prendiamo questo pezzo. Guardatelo bene. Anche se è spiegato nelle istruzioni che si vede bene. Però ecco in realtà non fanno vedere bene queste due parti. Qua è più larga. Qua è più stretta. Ecco la parte più stretta va messa dove ci sono i fori per far passare il cavo. o meglio i cavetti. Così tirate su questo. Guardate. Questo lo inserite qui. Prendete l'altra parte del collo e l'andate a mettere sopra. Ovviamente i cavetti non dovete prenderli in mezzo. Ecco qui. Prendiamo quattro viti numero quindici e avvitiamo senza stringere. Stringeremo tutto dopo averle messe in ogni foro. Controllate che tutto sia a posto e avvitate. Perfetto. Adesso prendiamo la piattaforma d'aggancio che avevamo montato nelle uscite precedenti. Andiamo a svitare le due viti che abbiamo messo prima, le numero tredici, quelle che ho usato per crearmi il filetto. Tenete sempre un dito all'interno del collo. Posizioniamo questo nella sua sede. schiacciate bene, schiacciate bene fino in fondo, che tocchi dappertutto. e dobbiamo andare a mettere due viti, guardate, le numero tredici, una in questo foro qui e una in questo foro qui. ecco. Basta avere il giusto metodo e si fa tutto senza fatica. ecco fatto. Ora, se vi ricordate, siamo andati a togliere prima la vite 12, qui dal perno, questo quadrato. tiriamo sui cavi, ricordatevi che la parte ovviamente frontale è questa, anche perché è impossibile sbagliarsi in quanto non potreste girare al contrario. fate attenzione a stendere bene i cavi, mi raccomando, senza tirarli dallo spinotto. prendeteli sì dallo spinotto ma teneteli dal filo, sempre dal filo, mai dagli spinotti. li tirate su bene uno alla volta, non tutti insieme perché non va bene, uno alla volta. dopodiché, se avete fatto come vi ho detto io di lasciare il perno quadrato già in posizione, siamo già a posto così. adesso andiamo a mettere la vite qui. tenete schiacciato con le dita e contrastate con il pollice la spinta del collo e avvitate. girate il cacciavite al contrario, quando sentirete il dentino avvitate. questo solo se vi siete creati il filetto. avvitate fino in fondo e poi provate. perfetto. il movimento è fluido e sicuro. dove lo metti sta bellissimo. mi piace veramente tanto. bene, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. questi possiamo anche inserirli. una cosa che può capitare di trascurare. prendiamo la centralina elettronica. la mettiamo nell'unica maniera possibile. e poi guardate... ah già, io avevo messo la vite, la 14. vado a rimuoverla. eccola qui. questa potete metterla in qualsiasi posizione. così o così non fa alcuna differenza. però vedete? non è a filo perché... guardate... qui è a filo e qui non è a filo. perché dovete fare attenzione che gli spinotti entrino perfettamente nella loro sede. qui è entrato. qui non sono ancora entrati. vi faccio vedere adesso. non so se si sentirà il rumore quando si inseriscono. con un cacciavite senza toccare assolutamente i perni. quindi sulla plastica allargate lo spinotto e sentite? non si è sentito ma si è inserito. ecco qua. perché? perché probabilmente c'è da fare anche questa piccola attenzione, avere questa piccola attenzione affinché si inserisca tutto bene. quello che conta è che poi una volta messo dietro il coperchio sia perfettamente a filo, non ci sia alcun dislivello. altrimenti dovete ancora agire sulla sede qua degli spinotti. adesso ho rimesso la vite numero 14. vedete com'è più semplice organizzarvi così. non devo più guardare la misura, la dimensione, qualche numero corrisponde. ce l'ho già lì. ecco qua. adesso vi faccio vedere quanto è semplice fare questo lavoro senza diventare matti. andiamo a rimuovere le due viti 14 che ho usato all'inizio per crearmi il filetto qui nel supporto della boccola. bene. questa andrà montata poi in questa posizione con vi metto la mascherina così avete un riferimento maggiore vi ricordate come vi ho fatto vedere di allargare la mascherina per renderla stabile? andate a vedere il video dove faccio la modifica ed è perfetta, non si muove. allora dicevo questa poi andrà avvitata con questo unico pezzo verso di voi che è il 6 e questi da quella parte lì aspettate, così ok? vedete qui c'è la mascherina così quindi quello che dovete montare alla fine è il numero 7 non montatelo prima allora cominciamo con il numero 1 allora vi dicevo che dovete averlo così con questo unico verso di voi che è il 6 qui abbiamo la mascherina però ecco mi stavo dimenticando di dirvi di fare attenzione perché qui non vi confondete qui non abbiamo il numero 2 ma abbiamo attenzione 1 2 e il 3 qui è qui poi va su a salire bene ma qui abbiamo 2, 1, 3 attenzione e non abbiamo 1, 2, 3 fate attenzione perché poi non vi funziona o vi funziona male qualche effetto speciale quindi mi raccomando andiamo a prendere allora prima il numero 2 o l'1 non è un problema tanto sono vicini come le inseriamo? le inseriamo guardate tutti così qui con la parte liscia vedete quale abbiamo qui abbiamo la parte liscia e qui abbiamo la parte dove ci sono i due spinotti la parte liscia va tutta verso l'esterno della centralina vi faccio vedere allora prima di inserire attenzione anche un'altra cosa dovete sbrogliarli dall'interno non li lasciate intrecciati perché sono brutti è vero che poi va chiuso però ecco se vedete che questi due sono intrecciati separateli già sapendo che uno va di qua e l'altro a seguire ok? quindi prendiamo in questo caso il 2 iniziamo proprio dall'inizio va vedete? io lo inserisco aspettate che inquadro bene e metto la parte liscia all'esterno questo è il 2 vedete che la parte liscia è all'esterno della scatola e qua all'interno abbiamo gli spinotti bene su tutti quelli che andremo ad inserire faremo la stessa cosa ecco abbiamo messo il 2 adesso prendiamo l'1 il numero 1 numero 3 alla fine non abbiate fretta controllate lo stesso tutto eh? prima di chiudere poi non mi lamentate non mi funziona questo come mai? dovete mai non dovete mai avere fretta se dovete staccare uno spinotto potete tranquillamente fare questo dovete avere un po' di unghia eh? guardate pollice pollice metto l'unghia qua sotto indice metto l'unghia qua sotto e tiro tac ecco qua mai dal filo mai dal filo bene mi è rimasto da mettere il numero 5 anche questo vado a separarli bene all'interno ok ok non so ragazzi l'inquadratura come possa venire bene o meno però ecco quello che conta è che io vi abbia spiegato le cose importanti vi abbia spiegato quello che conta insomma adesso mettiamo il numero 6 e il 7 lo mettiamo una volta che abbiamo avvitato la centralina con le due viti numero 14 perché? perché se la mettete prima non riuscite a girarla ecco perché vi do i consigli per migliorare il montaggio e facilitarvelo ok? eccoci qua adesso ci rimane da attaccare il numero 7 prima lo avvitiamo avvitiamo la centralina alla base e poi attacchiamo il numero 7 adesso controlliamo che tutto sia inserito correttamente fino in fondo e che i numeri delle targhette corrispondano ai numeri sulla centralina ve lo ripeto ancora una volta fate attenzione al numero 2 e al numero 1 fate attenzione guardate bene come l'avete inserito perché non è in ordine crescente abbiamo 2 1 3 non abbiamo 1 2 e 3 va bene guardate com'è semplice attenzione prima di tutto andate a prendere il cavetto A7 lo andate a levare se fosse mai intrecciato dai fili sotto lo fate passare dove deve passare l'importante è che lui sia libero e poi fate semplicemente così prendete la centralina guardate e la girate ecco fatto voilà non mi rimane che avvitare le due viti numero 14 il 7 lo mettiamo dopo non stringete tutto subito avvitatele soltanto affinché avrete la certezza di avere preso correttamente il filetto diamo un'altra contro l'attina e poi stringiamo perfetto possiamo stringere bene un po' da una parte e un po' dall'altra bene a questo punto prendiamo il cavetto rimanente che è l'A7 e andiamo a inserirlo ricordatevi sempre con la parte liscia non di qua che abbiamo il metallo dalla parte liscia verso l'esterno della scheda elettronica ecco questo è il lavoro che alla fine avrete certo il filmato non è un filmato breve però vi assicuro che voi che non dovete stare attenti a quello che dovete dire che non dovete fare attenzione ad uscire dall'inquadratura tanto Michele riesce sistematicamente ad uscire allo stesso cribbio non è facile per me ma per voi veramente una volta che avete visto questo metodo è semplicissimo è semplicissimo da montare controllate che tutto funzioni bene e adesso andiamo a mettere le fibre ottiche solo adesso perché le antenne ci potevano dare fastidio quindi le prendiamo mettiamo via da parte questo poi alla fine prima di salutarci prendo tutto quello che abbiamo montato dal numero 1 al numero 8 io uso il plurale volutamente perché siete voi la vita del mio canale e farò una rappresentazione di tutto e poi ci salutiamo questo è il tappo del serbatoio dell'acqua che poi sarà da riempire con una siringa mi raccomando non usate acqua del rubinetto solo acqua distillata perché perché anche una minima parte di calcare in mezzo alla membrana che batte velocemente e quindi se questo è il tappo di calcare che poi vengono sparate fuori automaticamente se ci fosse del calcare e c'è sempre nell'acqua del rubinetto una volta che lasciate il vostro modello del tempo e si asciuga la membrana vi assicuro che poi non funzionerà più quindi andiamo a mettere questo giriamo le viti e le viti chiedo scusa le righe perpendicolari a queste orizzontali ecco qua vedete queste righe sono perpendicolari rispetto a queste che sono orizzontali questo è correttamente inserito qui poi ci andrà una calamita per attaccare la base dell'overpilder bene andiamo a finirci adesso le antenne molto semplice prendiamo la fibra ottica sicuramente è pulita ma controllate che sia perfettamente trasparente da una parte e dall'altra perché è da lì che puoi prendere la luce e non dal centro dal centro la trasmette in lungo nella direzione del filo ma è qui che prende la luce basterebbe mettere un puntino nero qui e non succede più nulla non si vede nulla inseriamo dentro la prima inseritela pure fino in fondo tanto non esce dall'altra parte inseritela che arrivi a filo qui perfetto facciamo la stessa cosa con l'altra ecco qui poi mettiamo i coni all'interno della loro sede stessa cosa di qua che bello questo modello ragazzi non vi preoccupate perché anche se non sta su poco conta non deve lavorare contro la gravità una volta che è messa all'interno siamo a posto e andiamo a inserirlo ovviamente con la parte trasparente verso di noi perché sarà quella che poi si illuminerà guardate anche il taglio obliquo ecco qua qua deve toccare perfettamente inseriamo anche questa di qua ecco ecco bellissimo bellissimo poi come ho già detto per far funzionare questo o ci daranno un'altra mascherina e secondo me sì oppure dovremo andare a rimuovere questa parte metallica che dovremo soltanto lasciare qualora noi volessimo presentare il nostro modello con le antenne quelle piene con la mascherina perché ci danno anche una mascherina una mascherina completa che se uno volesse essere più fedele all'anime come colorazione degli occhi le antenne sono abbastanza simili potrà farlo ecco ecco perché ci hanno dato anche questa copertura metallica perché una volta che leveremo questa per far funzionare questa membrana in trasparenza si vede se uno vuol presentarlo così è più carino perché tanto dice lo metto in bacheca lo metto nella vetrina e chi va a toccare più gli effetti speciali so che ci sono mi basta però è più carino così con le righe che si vedono piuttosto che il cerchio che si vede attraverso le tre griglie bene questo l'abbiamo fatto io direi che questo è finito adesso metto pausa al video faccio una rappresentazione di tutto quello che si è montato fino a questo numero 8 poi ci salutiamo e non mancate perché preparo subito l'uscita numero 9 a dopo eccoci qua carissimi ragazzi carissimi anche quelli che come per incanto adesso schiacceranno iscriviti e attiveranno la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato grazie a tutti grazie anche che mi state aiutando non saltando gli annunci quando durante appunto la visione del video compare la scritta salta annuncio io vi chiesi gentilmente di non saltare l'annuncio per aiutarmi e voi lo state facendo perché me ne accorgo grazie a tutti coloro i quali hanno deciso di ascoltarmi e quindi di aiutarmi bene questa è una parte dell'overpilder qui all'interno poi ci sarà un motorino come quello che è presente negli spazzolini da denti quelli che vibrano e che consentirà grazie poi a un circuito interno di fare girare l'elica da una parte e dall'altra ci saranno le luci all'interno della plancia di comando dell'overpilder nonché le luci di diversa intensità continua quindi alternata non continua alternata e che simuleranno il fuoco del razzo dietro della diciamo del propulsore dell'overpilder bellissimo qui abbiamo la mascherina diciamo gli occhi non la mascherina gli occhi poi la mascherina ci verrà data anzi vi dico subito ecco qua guardate questa è l'uscita numero 9 che andrò poi a preparare e come mi stavo appunto dicendo vedete abbiamo la copertura degli occhi che ci viene data dove poi andremo a inserire questa e anche parti altre parti dell'overpilder questa perché perché è più intensa rispetto a questa lavora meno a trasparenza e questo sarà il connubio poi da usare e per come vi dicevo prima qualora si decidesse di presentare il nostro Mazinga Z senza dover usare ci basta già psicologicamente saperlo anche perché parliamoci chiaro mica andiamo a giocarci poi una volta che sappiamo che funziona tutto non è che andiamo lì ad usarlo sempre anche perché lasciare l'acqua sempre all'interno non credo che faccia bene e dicevo quindi quando decideremo di presentarlo nella nostra vetrina questo se vogliamo lo sostituiamo con la mascherina e sarà più fedele all'anime anche se così è meraviglioso perché ha un colore più pieno rispetto a questo perché ovviamente deve poter lavorare a trasparenza per far vedere la luce dei led se mettessimo questo si vedrebbe pochissimo o forse nulla la stessa cosa le antenne queste sono in metallo il colore diciamo che si cambia appena appena questo sul metallo è venuto forse meglio anzi decisamente meglio quindi ecco non abbiamo ovviamente la punta trasparente del raggio congelante per il stesso discorso che vi ho detto prima questo sarà da mettere insieme alla mascherina e anche a questa alla bocca davanti diciamo che ha questa griglia chiusa quindi griglia chiusa punta in metallo e mascherina nuova se vogliamo presentarlo senza effetti più fedele all'anime poi abbiamo questo che avevamo ricevuto per fare la prova delle luci led e tutto era perfettamente funzionante e questo che parte superiore del torace guardate qui che impalcatura alluminio, zinco pressofuso, acciaio bellissimo, veramente fatto bene io sono soddisfattissimo bene ragazzi stavo cercando di come sempre sono legato come scenografia lascio molto a desiderare ah già ma non vi ho fatto vedere Koji Kabuto e come faccio a non farvi vedere Koji Kabuto eccolo qua guardate che spettacolo bellissimo è tutto dipinto a mano guardate la fibbia della cintura lo stemma sul casco gli occhiali, la visiera era bellissimo veramente bene adesso vi saluto io mi faccio la copertina la foto per la copertina finale e vi ringrazio del vostro tempo un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao ragazzi mi raccomando non mancate seguitemi